A 25 anni una laurea in economia e veleggia sopra i 145 mila followers su Instagram a cui spiega l'economia. Un argomento che sul social non è certo fra quelli con più appeal. Lei è Imen Bularajan, si definisce economista e divulgatrice di economia, diventata un fenomeno su Instagram. Dov'è? Imen Jane. Riesco a usare in questo modo uno strumento che agganci i ragazzi molto più facilmente rispetto a proprio l'articolo vero e proprio. Poi io attraverso il mio video è solamente in realtà un momento in cui si accende la fiamma, una miccia, per poi destare curiosità e linkare magari l'articolo che invece è più corposo. I ragazzi si immedesimano nella mia età, nella mia gioventù, nella mia vita di tutti i giorni, che comprende l'aperitivo con le amiche, andare a farsi la manicure, ma anche andare al convegno con Cottarelli o al Book City, eccetera. A Book City, evento culturale di Milano, infatti ha tirato una folla di ragazze ad un incontro in cui si parlava di equilibrio fra vita online e offline, come spiega Sara Dagati fra gli organizzatori dell'evento. Si vede tra il pubblico, sono moltissimi ragazzi giovani, il che ci fa piacere perché l'evento vuole essere una riflessione su come si possa trovare un equilibrio tra mondo reale e mondo virtuale, quindi un utilizzo responsabile della connessione. Una questione su cui Imen Jane ha idee chiare e qualche consiglio da dare. Usare tutto il tempo, sia online che offline, come non perdita di tempo, nel senso di sfruttare quei momenti di accrescimento, di cultura, di un valore personale e non perdere, che ne so, le ore a fare qualcosa che non ti ritorna, come per esempio scorrere 20.000 foto di cibo, che non ti dà nulla, non ti dà niente in termini sia tuoi che di arricchimento personale, ma anche offline, di non passare le giornate a giocare con i videogiochi o insomma cercare davvero sia nella vita reale che quella digitale un momento di cultura personale.